Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie a chi è presente, grazie anche a chi ci guarderà più in là, contribuendo a questo appuntamento che è organizzato da Forum PA con Eltec360.it che come molti di voi sapranno è la testata verticale del nostro gruppo dedicata all'innovazione in sanità e tanto alla trasformazione digitale e alla sanità digitale. Oggi il titolo del nostro Coffee Talk è Sostenibilità, prospettive e futuro del sistema sanitario italiano. Io qui con me ho due graditissimi ospiti ai quali, come abbiamo fatto nelle giornate precedenti, per chi di voi li ha seguite, chiederò di presentarsi da soli proprio perché questo tipo di incontri è un po' così informale, abbiamo detto ieri e lo ripetiamo oggi davanti a un buon caffè e il caffè era davvero buono perché l'ho preso anch'io e quindi è una chiacchierata davvero per stare insieme, un momento di networking che poi ha caratterizzato tutta questa edizione di Forum Sanità. Grazie ancora di essere qui a Giuseppe Melone e Eugenia Oliverio, ripeto preferirei che fossero loro stessi a raccontarci perché sono qui e soprattutto di cosa si occupano e conosciamoli perché il tema, vedrete, è davvero interessante da affrontare con loro. Partirei da te Eugenia, prego. Buonasera a tutti, grazie Massimo per l'invito e per il coinvolgimento in questa bellissima iniziativa. Per presentarmi vi racconto brevemente di che cosa mi occupo, io lavoro all'ospedale Isola Tiberina e ricopro due ruoli, uno è quello di direttore dell'accoglienza ai pazienti e l'altro direttore di innovazione organizzativa. Devo spiegare, credo, più il secondo perché l'accoglienza ai pazienti è abbastanza immediato come concetto e invece abbiamo deciso proprio come management all'interno di questo ospedale di unire queste due figure perché l'innovazione organizzativa per noi è non soltanto tutto il mondo dei sistemi informativi e appunto dell'innovazione e della tecnologia ma anche la ricerca di quelle che sono le soluzioni migliori proprio per migliorare il percorso di cura dei pazienti. Grazie, per ora solo presentazione. Giuseppe, grazie. Grazie a tutti, grazie a te Massimo, grazie alla struttura per questo invito, per questa bellissima occasione di poter ragionare in un momento molto particolare di tematiche così nodali quali quelle del sistema sanitario e delle sue criticità. Io nasco economista aziendale, i miei primi anni di lavoro come direttore in ambito editoriale, il mattino di Napoli, sono napoletano, dopodiché approdo in sanità prima attraverso l'università, quindi la facoltà di economia di Napoli, poi come direttore di una struttura di alta specialità del cuore, la Montevergine di Mercogliano ad Avellino, dopodiché dieci anni di direttore centrale all'Arsan, l'agenzia sanitaria regionale, prima come direttore del servizio economico finanziario e controllo, poi della pianificazione e programmazione, per tre anni direttore dell'ASL di Avellino e per tre anni direttore amministrativo dell'ospedale Bambino Gesù a Roma, adesso professore di organizzazione aziendale sanitaria alla Unitelma che è la telematica di Sapienza. Diciamo che hai fatto poche cose Giuseppe. Una trentina d'anni in sanità. Bella esperienza, bella esperienza da avere qui con noi e io ne approfitterei a questo punto Giuseppe per iniziare a chiederti una cosa, non è mia abitudine portare fogliettini, però ho dovuto farla perché c'è una frase di Nino Cartabellotta che per quanto sia diretto e facile da ricordare non vorrei stravolgere e te la vorrei sottoporre perché ti riguarda fra virgolette da vicino. Giuseppe Cartabellotta dice, vorrei fare anche una piccola premessa, ecco, tu hai scritto di recente questo libro che se mi consenti lo facciamo anche vedere, che si chiama Scenari e modelli di governo, sono organizzazione e management del sistema sanitario italiano, quindi perfettamente calzante diciamo con le tematiche che stiamo qui affrontando al forum, ci interessa molto capire dove sta andando grazie innanzitutto e proprio per capire come sta questo sistema sanitario ti cito Nino Cartabellotta come sapete tutti, presidente Gimbe, che ha avuto modo di dire in un recente evento che è stato organizzato dal consorzio Daphne allora lui dice, purtroppo la sanità pubblica vive un momento di grandi criticità tra liste d'attesa lunghissime, aumento della spesa privata ed enormi disuguaglianze, torna il tema già affrontato. Oggi la grave crisi di sostenibilità del servizio sanitario nazionale non garantisce più alla popolazione equità di accesso alle prestazioni sanitarie, con pesanti conseguenze sulla salute delle persone e sull'aumento della spesa privata. Dice Cartabellotta, la terapia c'è, ci sono le soluzioni per uscirne, ma occorre fare scelte politiche accurate. Dobbiamo decidere la direzione da intraprendere. Sottolineo, la direzione da intraprendere. Poi possiamo stabilire, dice, quante risorse servono per rilanciare il servizio sanitario pubblico. E in questa stessa occasione Cartabellotta, riprendendo una diagnosi fatta nel 2019 all'interno di un suo rapporto Gimbe, all'epoca lui aveva definito il sistema sanitario italiano, non credo sia molto diverso oggi, un paziente cronico con patologie multiple. E diceva sostanzialmente che insomma c'erano le terapie ma era un paziente da valutare. Ecco allora Giuseppe, la mia domanda, perché ti ho citato Cartabellotta? Per due motivi. Uno per la direzione da intraprendere, ne parliamo dopo perché della direzione, io vorrei capire da te come sta oggi il sistema sanitario italiano, perché all'epoca Cartabellotta lo vedeva quasi da codice rosso. Oggi è in codice rosso, è in prognosi riservata, si sta riprendendo, sta benissimo, cammina a vele spiegate. Ce lo fai un quadro, chi meglio di te, insomma, da cultore di queste tematiche. Grazie Giuseppe. Grazie, grazie. La domanda è densa di stimoli. Il sistema sanitario è certamente un paziente cronico. E' ancora cronico. E' ancora cronico. Dalla cronicità non si esce. La cronicità è una condizione, peraltro per inciso, che riguarda e riguarderà sempre di più la popolazione italiana, la cui stratificazione demografica va verso una popolazione molto più anziana, la cronicità si cura al domicilio, non nelle strutture ospedaliere, al più in quelle di territorio, se riusciremo a farle con gli investimenti del PNRR. Vive una condizione di cronicità perché è una condizione che negli anni si è protratta con dei tentativi salvifici che poi però hanno visto inserirsi nella dinamica squisitamente sanitaria una serie di altre tematiche, tra cui prepotentemente quello del controllo e della razionalizzazione delle risorse e quindi della spesa. Noi veniamo dalle riforme degli anni 90 per non prenderla troppo dalla lontana con il 78, ma se partiamo con l'aziendalizzazione degli anni 90 noi abbiamo usato degli abusi semantici pensando semplicisticamente che cambiando la A della U di USL e mettendola come A di azienda sanitaria le cose poi accadessero. Non è così, non è stato così. Noi abbiamo avuto intorno ai primi anni 2000 qualcosa come 6 miliardi di deficit sanitario che hanno dato corso poi alle politiche di spending review ma soprattutto ai piani di rientro che poi sono riusciti a invertire un po' la tendenza. Abbiamo introdotto il concetto di LEA perché il nostro articolo 32 della Costituzione insieme al comma 2 dell'articolo 3 ci obbligano alla tutela della salute come principio di rango costituzionale cui vanno assicurate idonee risorse. Per fare questo nel frattempo ci siamo resi conto che più che andare verso una spesa standard verso cui eravamo andati col decreto 68 del 2011 con una serie di interventi noi ci troviamo più in una condizione di spesa possibile cioè valutata anche la spesa sanitaria attraverso le regioni benchmarking e quindi un indicatore di spesa di qualità che assolva pienamente il LEA noi non siamo certi di poter assicurare al sistema quelle risorse. Quando si parla e si riflette condivido con l'ultima parte del pensiero di carta bellotta quando dice che bisogna prima delineare una strada e poi preoccuparci di altri aspetti. Oggi si discute molto sul fondo sanitario nazionale se sia sufficiente o non sufficiente quanti miliardi occorrono ancora. Noi gravitiamo al momento intorno ai 128-130 miliardi che dovrebbero diventare 136 per l'anno nuovo a venire. Si discute su quanto si sia tornati indietro nella percentuale di spesa rispetto al PIL. Io su questo sono un po' su una posizione diversa. Credo che il PIL sia un indicatore di produzione di ricchezza di un paese ma non possa essere quello a indicare la percentuale di corretta spesa sanitaria. Ancora oggi noi abbiamo un tema centrale, l'umanità del post-covid rivendica una sanità di continuità, di prossimità con un processo di consapevolizzazione per cui il paziente debba in ogni momento sapere di essere preso in carico che è diverso da preso in cura perché ci sono fatti specie che non possono avere cura ma che meritano e hanno il diritto della presa in carico. Noi dobbiamo analizzare, riassettare, riorganizzare il sistema e chiarire qual è il costo giusto delle prestazioni. Rispetto a queste in rapporto a ILEA costruire un indicatore di spesa sanitaria che è diverso dal fondo sanitario. Il fondo sanitario è lo stanziamento pubblico di risorse ma oggi noi abbiamo circa 36 miliardi di spesa out of pocket, c'è la spesa a cui non concorre il fondo sanitario, più 4,5 di fondi privati parliamo di 180 miliardi, i 130 o 136 del fondo sanitario non sono certamente sufficienti. Quindi il problema non è lì, il problema è ricostruire, riprogrammare, riorganizzare un governo dell'offerta che abbia però contezza della spesa delle prestazioni sanitarie per un livello di spesa consono. Grazie, grazie Giuseppe. Il sistema sanitario italiano, Giuseppe ci ha detto ancora, è un malato cronico, forse per definizione di cronicità, però è anche vero che poi ti chiederò se e come possiamo uscirne. Però hai sottolineato quello che diceva la carta bellotta, l'importanza di trovare prima una direzione. Prima mi permetto di riportarlo qui quando prendevamo insieme un caffè, mi raccontavi che tante delle soluzioni che oggi sbandieriamo esistevano da tempo ma non hanno funzionato. Ora hai fatto l'esempio del cambiare la A invece la U di ASL, però le soluzioni le possiamo richiamare con nomi fantascientifici. Se non abbiamo capito bene dove vogliamo andare, mi sono permesso, e questa è una sensazione che da addetti ai lavori, io un paio di anni fa sulla testata che ho il piacere di dirigere, cioè la testata dedicata all'innovazione in sanità, è il Tech360.it, scrissi un articolo PNRR, citando Totò, per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare. Perché in quel periodo chiacchieravo con docenti, luminari come il professore, esperti di materia, direttori come Eugenia e tutti quanti già in quel periodo sembravano affannati a dover capire come andare a prendere i fondi, non come utilizzarli. Rimasi così scandalizzato dalla mancanza di progettualità che intravedevo all'epoca probabilmente nella confusione Covid, nel fatto che ovviamente erano anche loro contenti di poter approfittare quelle risorse, che scrissi preoccupato che stavamo perdendo il senso della direzione. A me fa piacere, dispiacere, ma piacere ritrovare quel tema dopo due anni assolutamente attuale. Vedremo come, lo scrivi in maniera simpaticissima, poi citerò qualche frase perché è troppo bella nel tuo libro, come tu inviti poi in realtà a pensare un attimino prima, a porsi in maniera critica alcune domande, ma non voglio anticipare. Voglio invece andare da Eugenia per chiederle, tu ti occupi di tanti temi per la tua funzione, ma ce n'è uno in particolare, a proposito anche di sistema sanitario, perché se è vero che il sistema sanitario è malato, le sue componenti si riflettono a piramide poi anche nelle aziende sanitarie, per cui efficienza, capacità di progettualità, co-design, si può parlare di tante cose, ma c'è un tema che emerge sempre di più. Oggi la Genas, ci sono degli indicatori che valutano l'operato dei dirigenti, i dirigenti sono costretti ad attenersi a questi indicatori di merito, di ottenimento degli obiettivi, se non li rispettano sono forzati in dei piani di rientro per cui possono pregiudicare i loro progetti. E c'è un, arrivo a te Eugenia, c'è un tema fondamentale, è la sostenibilità. La sostenibilità del sistema sanitario che poi sembrerebbe un paradosso. Voi pensate che il sistema sanitario è tra i più energivori, tra le industrie e quindi è tra i più inquinanti. Quindi pensiamo al paradosso. La sanità che per definizione dovrebbe pensare alla nostra salute e rappresenta un ecosistema tra i più inquinanti. Sostenibilità poi non significa solo ambiente ovviamente, poi significa anche governance in tutte le componenti dell'ISG, significa social. Ecco, la domanda è questa Eugenia. Quanto è importante e perché, spiegacelo tu che ne hai fatto davvero un cavallo di studio e di battaglia, quanto è importante e perché è ancora più importante nel settore sanità che magari in altri? Facci un quadro dello Stato e a che punto siamo dal tuo punto di vista. Allora, una cosa importantissima l'hai già citata tu e diciamo che il sistema sanitario dovrebbe essere garante della nostra salute e in qualche modo invece veniamo a scoprire che è tra quelli che consuma più energia e che in qualche modo inquina di più. Io faccio sempre il paragone con il settore dell'industria navale perché effettivamente se li mettiamo a paragone è più energivoro il settore della sanità e consuma di più il settore della sanità e già questo ci dà un dato importante. Ce n'è un altro che secondo me è la condizione e la consapevolezza assoluta che ci porta a dire che oggi non possiamo prescindere dal parlare di sostenibilità in sanità ed è quello che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè un malato su quattro, un decesso su quattro ormai è riconducibile a cause ambientali quindi davanti a questo dato è inevitabile insomma voler distinguere i due ambiti quindi io credo che questo sia già sufficiente per dire che comunque chi parla di sanità chi si occupa di sanità non può prescindere appunto parlando di sanità pubblica dal parlare dall'occuparsi della sostenibilità. Poi ci sono degli elementi che ovviamente sono peculiari del mondo della sanità dell'ospedale ad esempio e noi tutti sappiamo chi lavora in questo settore che l'ospedale per definizione è un'azienda che non chiude mai quindi diciamo in qualche modo non per giustificare quello che dicevamo prima però effettivamente la sua complessità è data sia da il suo modello di business diciamo così quindi un'azienda aperta H24 sette giorni su sette e dall'altro lato è comunque un contesto dove se pensiamo ai device ai macchinari e alla tipologia anche di modelli organizzativi che coesistono all'interno dell'ospedale per fare l'esempio più classico chiaramente questi portano ad un consumo energetico importantissimo. Tutto questo scenario per dire però anche che sicuramente la pandemia dobbiamo dirlo ha riportato all'attenzione in questi ultimi anni quello che noi conosciamo e conoscevamo già prima come approccio One Health quindi non è qualcosa che oggi stiamo inventando perché vogliamo unire sostenibilità e sanità ma oggettivamente è da sempre così sappiamo che la salute dell'uomo, la salute dell'animale e quella dell'ecosistema sono comunque tre elementi indissolubili. Grazie poi vedremo anche con te ma lo vediamo come la sostenibilità in realtà abbia diciamo delle componenti che possano favorire comunque non solo ovviamente un concetto di One Health, un paziente sempre più centrale, più una salute universale ma possano garantire anche, possono essere addirittura un alleato per andare a coprire le altre due gambe della sostenibilità che sono la social e la governance quindi al di là del paziente che deve essere ovviamente il primo e obiettivo in assoluto la mission della sanità però siccome qui ci sono tante persone che lavorano dall'altra parte per garantire anche l'efficienza delle strutture anche loro vedremo che ne possono trarre un grande vantaggio. Ecco tornerei a Giuseppe perché abbiamo detto del malato cronaco e dobbiamo subito rifarci dobbiamo vedere come curarlo però una cosa volevo sottolinearti Giuseppe cioè noi il DM 77 la famosa missione 6 tutte quante io sono coinvolto con la testata spingono all'innovazione tecnologica no? Quindi se leggi tra le righe capisci che in ogni dettaglio c'è un incentivo all'innovazione di questo tipo e alla trasformazione digitale però oggi ci sono stati bellissimi scenari in uno di questi Mariano Corso ricordava un dato del Desi che dice noi abbiamo strumenti digitali come tutti gli altri paesi al mondo ce li abbiamo siamo bravissimi li abbiamo tutti siamo prontissimi nell'utilizzo siamo tra i mi pare terzultimi poi i dati sono in continuo aggiornamento siamo tra gli ultimi paesi allora la domanda non viene proprio spontanea no? Cioè abbiamo tutto abbiamo i palloni per giocare la partita ma non scendiamo in campo in questo gap no? Che cosa c'è in mezzo che non ci permette di attuare cioè che nel sistema sanitario che cosa non funziona per sbloccare l'innovazione e anche se ci puoi iniziare a dare qualche traccia cosa dovremmo fare potremmo fare per farlo funzionare meglio. Sì grazie ancora una tematica molto stimolante molto nodale. Noi in questo momento abbiamo un'organizzazione dello scenario sanitario nazionale diviso attraverso le regioni con la riforma del titolo quinto con la legge costituzionale 3 del 2001 abbiamo attuato sempre per una matrice di controllo della spesa e quindi di devoluzione dei poteri di ribaltamento degli oneri del patto di stabilità e quindi degli accordi sovranazionali del rispetto del quadro macroeconomico tutti temi notate non sanitari tutto questo ci ha portato a ribaltare alle regioni delle competenze la competenza rispetto all'organizzazione del sistema sanitario sul territorio una fascia frastagliata un poco chiara di competenze concorrenti tra Stato e regioni dove entrano alcune tematiche sanitarie questo ha dato luogo a contenziosi in corte costituzionale notevolissimi specie sulle leggi finanziarie delle regioni per l'ambito sanitario uno dei temi è certamente chiarire cosa fa lo Stato centrale cosa fanno le regioni l'abbiamo vissuto durante la pandemia ci sono state delle azioni molto immediatamente poste in essere con delle decretazioni di urgenza per la pandemia che sono rimaste lettera morta cito il decreto 34 di giugno 2020 in attesa di capire chi fossero i soggetti attuatori per la riorganizzazione e il riassetto del sistema sanitario e quindi il potenziamento le terapie intensive sui territori sei mesi per capire se doveva essere lo Stato centrale con i suoi livelli di centralità amministrativa o le regioni quindi primo tema secondo tema che è quello che ho accennato prima gli abusi semantici noi usiamo degli istituti che caliamo formalmente nominalmente nel contesto dello scenario sanitario ma che poi hanno un problema di mancata attuazione nel libro parlo chiaramente del fascicolo sanitario elettronico come misura ponte cioè di punta non ponte scusate degli interventi del decreto 77 ma noi avevamo il fascicolo sanitario elettronico già in precedenza la telemedicina di cui tanto si parla e quindi vengo a te certamente noi siamo in un punto di non ritorno noi dobbiamo approfittare a piene mani dei big data delle autostrade informatiche dell'interconnessione dei sistemi ma tutto questo discende ancora da un insegnamento della pandemia noi dobbiamo essere in grado di erogare salute tutela prestazioni al cittadino secondo prossimità non è necessario che il servizio sanitario arrivi necessariamente al paziente quando il paziente si è procurato di arrivare alla struttura sanitaria attraverso questa informatizzazione attraverso questa rete le centrali operative territoriali il fascicolo sanitario elettronico è quasi live tra poco speriamo l'ecosistema dei dati digitali a livello di Agenas per cui noi avremo per la prima volta 60 milioni di cittadini su un sistema di banca dati dove sono presenti tutti i dati epidemiologici di storia sanitaria e questo sarà un elemento di grande qualità assistenziale per un medico qualunque che in qualunque punto d'Italia si trovasse di fronte quel paziente per interrogare la sua storia sanitaria e erogare prestazioni e individuare le migliori casistiche da attuare in termini di vari momenti sanitari di cura sono tutte cose che noi possiamo attuare abbiamo la possibilità di attuare il decreto 77 va necessariamente attuato anche per colmare quel divario purtroppo storico del rapporto ospedale territorio ci sono delle prestazioni sanitarie che non devono arrivare in ospedale e quindi il governo di tutto passa attraverso la parola storica purtroppo appropriatezza noi dobbiamo essere in grado di erogare prestazioni sanitarie secondo appropriatezza che vuol dire che ogni paziente deve essere trattato a livello di struttura sanitaria che abbia il setting assistenziale di complessità coerente col suo bisogno di salute e quindi attuare la gran parte in attuata previsione del decreto 70 del 2015 le reti tempo dipendenti le reti di emergenza urgenza il flusso del paziente tra strutture AB e SPOC qui però devo porre necessariamente un tema che riguarda anche la sanità privata accreditata oggi non è possibile che non entrino in maniera nodale nel complesso delle erogazioni di prestazioni di assistenza di urgenza e emergenza quindi non si può essere struttura almeno a mio modo di vedere accreditata soltanto per determinate casistiche o determinati DRG che sono nell'accordo contrattuale bisogna dare una copertura molto più ampia il tema più ampio riguarda i medici la retribuzione dei medici ospedalieri da allineare a quella dei medici di medicina generale un nuovo ruolo dei medici di medicina generale con un nuovo momento formativo e se possibile inquadrarli in un ambito rispetto all'ACN che è l'accordo collettivo che li vede come liberi professionisti un po' più inquadrati secondo dei percorsi assistenziali che passino per le case di comunità e gli ospedali di comunità. Grazie grazie quindi questo questo malato può mi collego giusto mi riconnetto all'ultima all'ultima cosa che dicevi no può passare dalle tante soluzioni che hai a cui hai fatto cenno importanti anche al concetto di formazione una formazione quindi trovare un territorio culturale un approccio culturale un po' diverso in tutto l'ecosistema no Giuseppe cioè più pronto all'innovazione e mi piace dire è uscito molto questo concetto quest'anno qui al nostro forum che avvenga anche un po' in co-design nel senso che gli operatori medici non devono trovarsi di fronte né dal punto di vista del legislatore né dal punto di vista degli strumenti tecnici informatici di fronte al piatto pronto sono cose in cui poi loro non crederanno e non utilizzeranno per l'innovazione sia dal punto di vista quindi più sanità partecipata se c'è un tavolo istituzionale bisogna farli andare a questi tavoli sentire le loro esigenze co-designare le cose che si fanno altrimenti poi loro non li utilizzano e quindi io credo che questa molla non sia tanto una formazione intesa soltanto come il corso di formazione il corso di formazione è qualcosa di preziosissimo di importante ma deve discendere anche il corso di formazione da un'esigenza reale e l'esigenza reale si costruisce dall'inizio per un obiettivo alla fine con le persone che la fanno e quindi grazie anche di questi spunti Eugenia noi parlavamo di sostenibilità la sostenibilità è un aspetto importante per il sistema sanitario fondamentale abbiamo detto però abbiamo anche ti cito qualche sontaggio uno di questi dice tutte le aziende sanitarie tutti i direttori ormai hanno abbracciato la sostenibilità dicono che per loro è fondamentale che occorre investire che sono pronti ad investire che lo stanno facendo e mi chiedevo e ti chiedevo un tema fondamentale è capire se si sta andando abbiamo visto in questo talk della direzione giusta ma per capire se la direzione giusta della sostenibilità c'è che si fa cioè c'è un tema grande e te lo chiedo esplicitamente come possiamo misurarla la sostenibilità si misura come allo stato attuale perché magari è importante farlo con quali parametri ci aggiorni su tutto ciò sì allora la risposta è sì si misura anche perché altrimenti come giustamente ricordavi tu tutti coloro che sono partiti con dei progetti delle iniziative anche delle sperimentazioni di sostenibilità io penso che avrebbero farebbero fatica a raggiungere poi effettivamente questi obiettivi però non è facile non è facile perché c'è ancora molta confusione in particolare in questo settore chiaramente tutto quello che è misurazione della sostenibilità in sanità individuazione dei KPI nel settore dove operiamo prende un po' ispirazione da altri settori questo lo sappiamo però appunto mi riallaccio a quello che stavi dicendo Massimo perché la buona notizia è che se è vero che circa il 60% delle aziende italiane ha avviato un progetto come dicevo prima non per forza ancora concretamente magari anche soltanto una sperimentazione una cosiddetta POC per affacciarsi a obiettivi di sostenibilità vuol dire che di pari passo deve avviare anche un progetto di misurazione e per farlo quello che si sta facendo è ragionare su due orizzonti uno è la misurazione intesa come misurazione della sostenibilità su scala globale quindi per noi su scala nazionale dove i KPI di riferimento sono quelli dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che ci fa un po' da linea guida ovviamente in questo frangente in particolare l'obiettivo 3 che è quello della salute e benessere e l'altra faccia della medaglia invece è quello più concretamente ispirato alle aziende quindi a livello locale dove chi si occupa di questo si sta organizzando dal punto di vista di governance come ci ricordavi prima dal punto di vista di appropriatezza perché anche i modelli organizzativi, i modelli assistenziali sono dei fattori abilitanti la sostenibilità e il raggiungimento di determinati obiettivi e sicuramente si sta in qualche modo anche organizzando con un supporto tecnologico perché poi per misurare tanti elementi, tanti fattori interdisciplinari all'interno di una realtà noi lo sappiamo, i nostri ospedali soltanto alcuni sono di nuova costruzione dove posso mettere le fondamenta per un ospedale cosiddetto green e tutti gli altri ovviamente devono invece partire da un contesto di riferimento quindi la sostenibilità deve essere misurata in realtà in due momenti in un momento iniziale in cui misuro il mio stato dell'arte cioè da dove parto, qual è la mia situazione di partenza e un altro invece così progressivamente proprio per raggiungere questi obiettivi che mi sono dato all'interno della mia direzione strategica l'ultima cosa secondo me fondamentale la città di Tu in apertura è incentivare chi si occupa di sostenibilità e le direzioni strategiche che comunque hanno degli obiettivi predefiniti per i prossimi anni con degli obiettivi e dei KPI precisi indirizzati sostanzialmente in quella direzione Insomma siamo tutti avvertiti, saremo misurati anche dal punto di vista sostenibile ma diciamo che è un aspetto non solo utile a tutto l'ecosistema ma probabilmente poi fondamentale lo vedremo tra un po' perché ti voglio chiedere un'altra cosa fondamentale anche per garantire efficienza stessa alle organizzazioni sanitari quindi al di là come dicevamo del paziente Allora Giuseppe io ci abbiamo credo alla conclusione però io mi sono appuntato qualcosa di simpatico perché tu hai disseminato il libro di spunti e io ti devo citare e in uno di questi tu dici diciamo citi una frase che chiami suggestiva appunto di Einstein che dice un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi ma mai nessuna potrà porne uno in apertura del libro ce ne sono altre e lasciamo a chi le vorrà scoprire altri spunti di riflessione importanti perché dove vogliamo arrivare tu in fondo il minimo comune multiplo del tuo interessantissimo direi spaccato del sistema sanitario è quello di suggerire un pensiero critico un pensiero critico che dicevamo in apertura parta dal porsi le giuste domande ma se uno si porre le giuste domande a quella famosa domanda per andare dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare probabilmente avrebbe una risposta prima di far ridere nella domanda quindi è tutto lì allora che cosa dici poi per esempio ti cito ancora testualmente questo l'hai scritto sul nostro portale la tecnologia non sostituirà mai l'elemento umano l'intelligenza guida resterà sempre quella umana con il professionista a servirle in maniera sempre più intelligente e utile delle nuove possibilità diagnostiche terapeutiche e tecniche poste a suo servizio dal progresso scientifico e tecnologico ecco noi abbiamo come claim qui Giuseppe guardiamo al futuro abbiamo l'accento sul futuro il claim del forum sanità io ti chiedo due cose uno che futuro vedi adesso che lo hai misurato adesso che hai messo il termometro al sistema sanitario dici dal tuo punto di vista il futuro che immagini che prevedi fosse anche non dei migliori dici sinceramente il futuro che prevedi più direttamente e poi vorrei sapere questa è la domanda vera sul futuro il futuro che auspichi cioè dove potremmo condurre e come il sistema sanitario facendo appunto delle riflessioni che partono dal pensiero critico dal mettere al centro la persona grazie io ho il dovere di citare un'altra frase di Einstein è un riferimento a Ralph Stacey che è stato un importantissimo professore di management inglese l'altra frase di Einstein è questa che quando si pensa di dare a un problema complesso una soluzione semplice vuol dire che non lo si è capito e poi Ralph Stacey che ci invita ad indossare le lenti della complessità cioè a guardare la dimensione della realtà di cui ci stiamo occupando attraverso quelle che sono effettivamente i suoi profili di complessità complessità vuol dire l'interrelarsi di una serie di aspetti di momenti multidisciplinari plurilivello che caratterizzano quotidianamente la dinamica sanitaria la realtà sanitaria è piena di profili nel nostro sistema è piena anche di contraddizioni noi abbiamo un sistema nel quale il soggetto che fruisce della prestazione sanitaria non è il soggetto che paga la prestazione sanitaria il soggetto che paga la prestazione sanitaria non è quello che poi stanzia le risorse perché la regione non stanzia le risorse le stanzia il governo a livello centrale ci sono tutte queste figure che si muovono su una scena dinamicamente quindi io dico sempre che è necessario creare dei reticoli di interdipendenze funzionali li ho definiti così quindi sta cosa la ripeto spesso che poi traslata sul piano delle autostrade telematiche dell'intelligenza artificiale trovano tutte le loro possibilità di esplicazione senza limiti il futuro che io vedo è un futuro fatto di altissima tecnologia di interoperabilità dei sistemi di digitale che ci accompagni di possibilità predittiva rispetto alle diagnosi rispetto alle modalità terapeutiche diagnostiche e quindi non possiamo prescindere da quello però lasciami dire un po' da illuminista sanitario da questo punto di vista le domande se le pone l'uomo le macchine sono in grado di elaborare all'estrema potenza è accaduto tempo fa che una mamma è riuscita ad avere una diagnosi per la figlia attraverso il mettere insieme una serie di elementi rispetto a un sistema di intelligenza artificiale che ha dato una soluzione che invece tanti medici interpellati non erano stati in grado di dare ma l'intelligenza artificiale però raccoglie attinge a un patrimonio informativo che è stato creato dall'uomo quindi il valore aggiunto dell'intelligenza artificiale è riuscire ad arrivare a livelli di elaborazioni in termini di sinapsi digitali a cui semmai la mente umana arriva più tardi o non subito o non completamente e quindi è nella fusione di questo mix tra intelligenza artificiale e però elemento umano che guida il sistema che intravedo sicuramente il futuro dal punto di vista del sistema sanitario noi dobbiamo riconoscere una cosa in questo momento aver messo altri miliardi sul fondo sanitario si può ritenere che siano pochi e quindi su questo si dibatte molto ma noi abbiamo un'inflazione galoppante una crescita molto ridotta un rapporto deficit PIL e debito PIL che è all'8% e al 140% rispetto ai valori del patto di stabilità che sarebbero 3% e 60% mettere fondi sulla sanità in questo momento non è semplice come elemento di spesa pubblica il tema allora è quello di riassettare rivedere costruire degli elementi di costo sostenibili del sistema sanitario e poi assicurare le idonee risorse grazie magari spenderli meglio quelli che abbiamo in maniera più efficiente grazie Giuseppe grazie sono spunti veramente non solo illuministici ma anche illuminanti direi quindi grazie davvero Eugenia l'ultima parte era proprio quella dell'efficienza e la sostenibilità è anche efficienza lo dicevamo prima io ti volevo chiedere velocemente un punto che forse non è assolutamente ancora iper compreso è che la sostenibilità ha nel digitale proprio nel digitale un grande alleato per essere messa non un nemico ma un alleato per essere messa in pratica ci puoi spiegare perché verissimo tant'è che se io dovessi ridisegnare quell'immagine dell'approccio One Health di cui parlavamo prima lo disegnerei proprio aggiungendo un tassello che è quello proprio dell'innovazione digitale e della tecnologia che poi supporta la misurazione dei KPI come dicevamo prima e che in qualche modo ci aiuta anche ad arrivare a degli obiettivi globali prima citavamo qualche dato però dobbiamo considerare nello scenario europeo e anche in quello poi statunitense che è ancora più difficile che comunque le emissioni che vengono effettivamente prodotte dal settore della sanità stanno arrivando a dei numeri a delle percentuali importanti 5% nei paesi europei tra l'8 e il 9% negli Stati Uniti quindi comunque è chiaro che la tecnologia deve intervenire per dare una mano in questo scenario che può sembrare un po' difficile non catastrofico però sicuramente come dicevi tu prima essendo il settore della sanità da attenzionare e qual è diciamo la tecnologia per fare degli esempi parlavamo prima il professore citava la telemedicina la telemedicina è l'esempio più calzante perché abbiamo visto anche negli studi recenti come effettivamente in termini di efficienza riduzione dei costi riduzione dei tempi e anche riduzione delle emissioni la telemedicina è stato e ce l'ha dimostrato nel corso degli ultimi anni è stato il primo cavallo di battaglia nel supportare il miglioramento della sostenibilità che è un elemento di efficienza assolutamente poi abbiamo anche un elemento social perché parità di accesso equità tante persone che non possono fare i viaggi della speranza dal profondo della Calabria fino a uno si collegano hanno una prima prevalutazione e questo è la gambetta social della sostenibilità quindi guardate come il digitale in realtà è un grande alleato in sanità della sostenibilità ecco perché ci puntiamo tanto scusa no 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 assolutamente assolutamente d'accordo poi ecco io ci tengo a dire che quello però forse è l'esempio preponderante ma non è l'unico perché ci sono anche tanti altri esempi che possiamo fare di tool e soluzioni digitali che negli ultimi anni sono stati utilizzati più di prima non che fossero sconosciuti però anche dal punto di vista amministrativo se io mi metto il cappello dell'accoglienza allora ci sono tantissimi portali assistenti virtuali strumenti soluzioni che permettono ai pazienti come giustamente dicevi di avere una serie di servizi a distanza di non dover non per forza viaggiare tra regioni ma anche viaggiare in una città io lavoro in un ospedale bellissimo ma di difficile raggiungibilità quindi insomma chiaramente questo è un elemento su cui bisogna puntare in determinati contesti e poi diciamo c'è un esempio che io lascio più legato magari a quei contesti a quegli ospedali di nuova costruzione dove già si è un passo in avanti in termini di misurazione e raggiungimento di obiettivi della sostenibilità che è legato all'applicazione dell'artificial intelligence con l'artificial intelligence è chiaro che si possono fare progetti molto più complessi cito un esempio laddove proprio in alcuni ospedali italiani è stato costruito un sistema nevralgico per monitorare e in qualche modo regolare l'utilizzo dell'energia dell'acqua diciamo di tutti quelli che sono le facility interne alla struttura in base al numero di persone che in quel momento sono presenti e quindi è chiaro che lì in termini di raggiungimento del risultato dell'obiettivo un vantaggio competitivo importante grazie grazie davvero e a proposito di intelligenza artificiale poi chiudiamo mi permetto di citare ancora una volta una doppia efficienza del digitale pensiamo alla prevenzione che è un problema enorme del nostro sistema in altri paesi in America e già la effettuano in maniera massiva pensiamo per esempio anche alla prevenzione del paziente oncologico ci sono degli algoritmi tipo Sphinx ma ce ne sono tanti altri che permettono da una semplice radiografia di andare a prevedere il tuo stato futuro la tua predisposizione non sia mai diciamo ad ammalarti di una patologia ma se io metto in campo io Italia questi strumenti io come sistema nazionale aggredisco due problemi uno finalmente riesco a fare anche senza troppo personale aiutato dalle macchine dei sistemi di prevenzione che hanno sicuramente un costo però lo recupero non solo restituendo ed ecco la S dell'ISG della sostenibilità non solo la parte social del paziente che starà meglio e non si ammalerà mai perché ha prevenuto il problema ma i costi delle successive cronicità sono piccoli esempi che fanno capire come puntare sul digitale anche per la sostenibilità per il sistema sanitario è un affare perché serve contemporaneamente la necessità di noi cittadini di vivere in salute e quella della salute dell'efficienza anche economica perché no in un periodo difficile come ci segnava Giuseppe del sistema sanitario bene vi abbiamo trattenuti molto speriamo che chi non è qui possa averci ascoltato e ci ascolterà perché sono temi che abbiamo affrontato con estrema veramente passione e voglia di raccontarvi l'innovazione qui a Forum Sanità grazie per essere stato con noi a Giuseppe grazie Eugenia speriamo di farne altri di questi appuntamenti così informali ma speriamo così diretti per regalarci un pezzetto di futuro ma anche di presente dell'innovazione digitale in sanità grazie a tutti e buon pomeriggio e buon pomeriggio e buon pomeriggio grazie a tutti